ecco siamo alla cristallo prime riprese eh no le prime tre andavano dalla quarta qua invece di allungare da vento fermo una gran sterzata con le spalle ecco invece siamo bravi a continuare a dare dinamicità da lì c'è la fine aspettiamo il nostro Maurizio questa è Patrizia vai che ti muovi vai che ti oh vai adesso il movimento va meglio bravo però per favore prova